Grazie a tutti. E di finanza, di economia, di comunicazione in particolare. A partire dalla grande crisi del 1929, era stata fatta una legge di controllo. Diciamo una cosa, che dopo la grande depressione è stata varata una disposizione di legge, una normativa, che ha preso il nome di Glass-Steagall Act. Perché? Perché negli anni successivi alla grande depressione del 1929, centinaia e centinaia di banche fallirono e non pagarono i risparmiatori e rubarono i soldi alle famiglie che avevano versato i propri risparmi. Quindi decine di migliaia di famiglie subirono un danno diretto dalle banche, che diventarono insolventi. Allora, per evitare che a pagare le speculazioni sbagliate delle banche fossero i risparmiatori, venne fatta una normativa e applicata nel 1933, solo nel 1933, il presidente Delano Roosevelt approvò una legge bancaria chiamata Glass-Steagall Act che garantiva la sicurezza del deposito dai rischi e delle speculazioni, separando le banche in due diverse categorie, nelle banche commerciali e le banche d'affari. Quindi esistevano, dopo questo gennaio del 1933, delle banche che erano banche commerciali, che raccoglievano il risparmio, facevano operazioni di sconto e di deposito, ricevevano i soldi, effettuavano anche anticipazioni a chi aveva bisogno delle aziende, ma non potevano operare, utilizzare, vendere o comprare titoli di aziende private o di gruppi che non fossero i titoli riconosciuti, i titoli dello Stato oppure i titoli della borsa, quotati in borsa. Quindi titoli anomali o fantasiosi non potevano essere trattati. Mentre c'erano delle banche chiamate di investimento, banche d'affari, le quali potevano trattare tutti i vari tipi di strumenti finanziari. E tra l'altro tutte e due le banche dovevano rispondere e depositare i propri bilanci alla Fed. E le cose sono andate bene fino al 1999, quando dopo una serie di pressioni durate 15 anni, i grandi banchieri, la lobby dei grandi banchieri riuscì a fare abrogare questo act, questa legge e nel 1999 con Clinton si arrivò all'abrogazione. Dopodiché cosa è successo? Contemporaneamente ci fu la globalizzazione e tutto diventò possibile. Diventò possibile alle banche di comprare e vendere, di non pubblicare neanche i bilanci, pubblicarli sì ma come volevano, ad esempio portando gli utili outside nelle sedi fiscali non particolarmente pesanti e invece mettere le perdite nei punti vari. Quindi queste banche hanno potuto agire con estrema libertà, soprattutto in modo spregiudicato, utilizzando i soldi che avevano e anche dei risparmiatori per speculazioni sempre più azzardate. Questo ha dato l'avvio, perché prima c'erano i derivati, ma i derivati erano dei titoli sani, di copertura, che servivano per proteggere da determinate probabilità negative. Ad esempio se un operatore vendeva all'estero, si poteva coprire con dei derivati, o chiamiamoli anche scommessi, allora non si chiamavano proprio derivati, si poteva coprire con un'assicurazione che gli garantiva che se il tasso di cambio scendeva oltre un certo limite lui era coperto. Il problema dei derivati, come diceva, è che non solo coprono, ma permettono anche di fare speculazioni assurde. Per essere semplici, ad esempio tu hai una casa, puoi assicurarti contro gli incendi. A questo punto metti nel tuo bilancio, nel tuo avere a valore intero questa casa. Se la casa brucia, non importa, c'è l'assicurazione che ti copre. Con i derivati tu puoi fare una cosa stranissima, non solo assicuri la tua casa, ma puoi assicurare anche la casa del tuo zio e anche di uno che non conosci in Alabama e fai una scommessa, un derivato su una casa di uno che sta in Alabama che non l'hai mai visto, non sai neanche se pagherà o non pagherà. Quindi ci sono queste possibilità. Allora, se ti trovi ad avere a che fare con gente onesta che ti vende dei prodotti sani, va bene anche questo tipo di speculazione, derivato perché il valore deriva dal sottostante, cioè da quella somma di scommesse, ma questi titoli sono talmente confusi e strani e fatti apposta per imbrogliare, al punto che proprio ieri è stata lanciata la notizia in America che c'è una commissione che sta studiando di indagare, di mettere sotto processo le principali banche, che poi sono sempre le stesse, perché sono JP Morgan, il gruppo Rothschild, Rockefeller e poi le loro banche in Europa che sono Credit Suisse, OBS e Deutsche Bank. E cosa stanno facendo? Anche Cuomo, l'ex sindaco di New York, Cuomo, sta facendo delle azioni legali contro queste banche perché hanno diffuso notizie false, hanno le società di rating che davano dei gradimenti molto buoni, dei punti molto buoni a questi titoli che loro vendevano e poi si sono rilevati tossici e hanno avvelenato tutti. Quindi l'abolizione di questa legge class legal del 99 ha aperto la strada alla truffa collettiva, al gioco ad azardo speculativo più vergognoso. Un altro aspetto, prima di cercarne la connessione con questa finanza, domanda sull'euro, c'è un destino dell'euro? Cioè l'euro in sé può funzionare o ha già qualcosa nella sua struttura che lo porterà a collassare e si tornerà volenti o nolenti alle monete nazionali di nuovo? Allora, è inevitabile che l'euro non riuscirà a reggere alla battaglia che gli è stata fatta all'inizio dagli Stati Uniti e oggi che ha in atto. Qual è questa battaglia? La battaglia è questa, l'euro è stata fatta con dei principi molto belli, apparentemente validi e sani. L'Europa invece di avere una banca di emissione che in caso di necessità emetteva denaro, emetteva solo il denaro sufficiente alla circolazione e alla vita commerciale e alle attività, ma non avrebbe avuto l'autorità o il diritto di emettere sia la BCE, sia il Presidente che il Consiglio, perché? Perché si supponeva che l'Europa sarebbe stata un paese di nazioni virtuose, questa Unione Monetaria Europea, per cui i deficit dei vari paesi pian piano si sarebbero ridotti, per cui non c'era bisogno di aumentare la circolazione, non era prevista né una svalutazione e soprattutto non era previsto che i paesi facessero dei buchi che aumentassero i loro debiti. Già quando sono entrati qualcuno aveva fatto delle marachelle e sappiamo bene ad esempio che la Grecia, e sembra anche l'Italia, la Grecia aiutata dalla Goldman Sachs aveva truccato i propri bilanci, come? Mettendo in attivo nei propri bilanci come dicevo, la casa di uno che non sapeva neanche chi era del nonno e l'aveva messa per il patrimonio che valeva e a un certo punto questa casa quando è spendiata o quando il proprietario non ha più pagato i mutui, questo certificato che avevano in mano è diventato carta stracci, è diventato un titolo tossico, quindi questi titoli tossici, queste scommesse fatte in mala fede, già impostate male, facevano vedere una società che aveva un bilancio come se tu avessi in tasca un sacco di assegni e cambiali di persone non affidabili e a un certo punto nonostante tu in bilancio metti tutte queste cose, fallisci per forza perché poi non ti pagano, quindi è stato il concetto errato di creare un'Italia virtuosa, un'Europa virtuosa e tutte le nazioni avrebbero dovuto pian piano ridurre i propri bilanci. Nel momento in cui è scoppiato il caos, è arrivato dall'America il calo e il calo delle richieste perché l'America è stata la prima che ha vissuto la crisi, l'ha vissuta in prima persona, l'ha creata lei e ha ridotto i consumi, ha ridotto l'importazione dell'Europa, quando noi ci siamo trovati ad avere questa riduzione di possibilità di esportare, una riduzione anche dei consumi interni e si è sparsa la voce e le cose andavano male, è successo un guaio e questo guaio si è concretizzato in quel collasso dell'economia. A questo proposito bisogna chiamarlo per forza collasso, in una trasmissione che ho fatto sul Tg2, un'intervista che mi hanno fatto al Tg2 il 30 di ottobre del 2008, ho detto una frase molto particolare, chi va su un sito che ho fatto che si chiama finanzafacile.tv trova questa intervista dove io dico il crollo del muro di Berlino ha determinato la fine del sistema comunista collettivista, il crollo della borsa del 28 di ottobre di quest'anno, io parlavo il 30, ha determinato il collasso del capitalismo liberista, ma non perché il capitalismo liberista sia valido, ma è crollato perché è stato talmente gonfiato con dei titoli artificiali, con emissioni di denaro fasulle dagli Stati Uniti, azioni, obbligazioni private, obbligazioni di industria, che il sistema è collassato, quindi non stiamo vivendo una crisi, una crisi che è ciclica, stiamo precipitando verso qualcosa che non sappiamo perché è come quando noi riempiamo un palloncino d'acqua e c'è un limite di rottura e dopo questo limite di rottura, noi stiamo andando verso qualcosa di cui non conosciamo gli effetti, non sappiamo neanche cosa succederà, nessuno può prevederlo, anche perché come prima ci siamo sentiti, un'ora fa abbiamo fatto due chiacchiere, ma non c'è più nessun economista che sia in grado di capire cosa succede, anzi, vuoi affidarsi agli economisti? Cosa dicevi tu dei tecnici un momento fa, quando abbiamo parlato? Sì, è proprio l'ipertecnico quello che viene chiamato nei momenti del bisogno, che non ne sa proprio nulla, coloro che sono all'interno, non hanno gli elementi della logica, della combinatoria, dell'intersezione, sono all'interno di un frammento di lettura e non sono in condizioni di cogliere questa logica soggiacente che è una costante. Sì, volevo proprio rilanciarti rispetto a questo, tu parli di logica del collasso che sta sotto, perché non c'è risposta alla questione dell'euro e soprattutto pare che si va verso scenari ancora più difficili. Allora formulo questa ipotesi, che questa logica soggiacente è una costante, non è che la crisi la stiamo risolvendo come anche passa nell'informazione che l'Italia sta mettendo a posto i conti, perché proprio rispetto a questa messa a posto di conti e abbiamo anche l'esempio della Grecia, l'indebitamento sta diventando tale che sembra piuttosto alludere allo strozzinaggio che alla risoluzione di una difficoltà economica. Allora hai avuto conoscenza, di un esposto che è stato fatto all'apertura di Trani che riguarda appunto un aspetto di questa costanza, è un dettaglio piccolo ma importante in Italia perché praticamente la grande stampa della televisione non ne ha parlato. Mi riferisco appunto a un pagamento che fa parte di quella crescita quasi che, altro elemento, ricordo insomma la pseudo crescita del gruppo Maddox, qui si tratta dell'indebitamento e là sembrava una crescita finanziaria destinata a proseguimento e a sicuro successo. Puoi parlare di questo dettaglio, degli elementi che abbiamo a disposizione perché sono... Anche nel mio sito, ti ringrazio anche di averlo citato, ne abbiamo parlato, perché anche nel mio sito che si chiama finanzafacile.tv io fino ad oggi non ho, mi sono astenuto dall'esprimere dei giudizi affrettati su Monti, anche perché devo dirti, credo che Monti sia in buona fede. Sì certo servirà alcune disposizioni dei grandi banchieri nell'ambiente dove lui ha vissuto e cresciuto e nato. Però può darsi anche che ci sia molta buona fede, che lui speri di fare per il meglio, perché come dicevamo i supertecnici sono quelli che fanno i disastri peggiori, bisogna fare attenzione, meglio andare da un bianchino a chiedere un parere, che magari è una visione più allargata, meno tecnica ma meno dannosa. Cosa è successo? Che da internet, perché sui giornali è stata trascurata la notizia anche dalle grandi televisioni, mi è giunta notizia che c'era stato un esposto di un onorevole italiano nei confronti di Mario Monti, un esposto presso la procura di Trani, la quale da un po' di tempo si sta occupando delle truffe fatte dalle banche, ad esempio proprio in questo momento sta facendo un'indagine nei confronti di Passera, ma non particolarmente di Passera quanto di banca intesa, perché circa 200 commercianti pugliesi sono stati truffati con i derivati. La procura ha aperto un'indagine e un onorevole che si chiama Roberto Fiori ha presentato il 4 aprile un esposto a questa procura della Repubblica di Trani, chiedendo l'apertura di un'indagine contro il Presidente Mario Monti per avere disposto lo scorso 3 gennaio il pagamento di 3 miliardi e 400 milioni di dollari a favore di Morgan Stanley. Sto anche leggendo perché l'argomento è così delicato che non voglio mettere niente di mio in questa storia, anche perché quando ho letto questa notizia su internet ho chiesto informazioni, ho un conoscente al Ministero del Tesoro il quale mi ha risposto no comment, non abbiamo commenti da fare e quindi mi sono rivolto un magistrato il quale mi ha dato copia di questo esposto con la richiesta di procedere nei confronti di Mario Monti. La somma che Monti ha pagato 3,4 miliardi di Euro li ha pagati per derivati che il nostro Ministero del Tesoro aveva preso e questa somma corrisponde a circa 3 miliardi di Euro pari alla metà di quanto incasserà quest'anno il Tesoro con l'aumento dell'Ivo, una notizia clamorosa che appunto non ha trovato riscontro sui grandi media. Così quando l'ho letta sono rimasto perplesso, per questo ho chiesto copia della denuncia che oggi ho qui in mano. L'agenzia Reuters ha infatti diffuso una dichiarazione l'11 aprile, diffusa ai cronisti dal direttore generale del Tesoro, la dottoressa Maria Cannata, che è stata interrogata appunto dai giornalisti sulla realtà di questa notizia, se era vero che era stata pagata la somma. E questa direttrice del Tesoro ha affermato che il Ministero non intendeva diffondere informazioni sui propri contratti derivati per non indurre gli operatori finanziari ad assumere posizioni ribassiste sui titoli dello Stato italiano. Allora ho preso copia della denuncia e mi sono accorto che nell'esposto l'onorevole Fiori chiedeva l'apertura di indagini per verificare la sussistenza di eventuali postesi di reato relativamente alla condotta di Mario Monti, quale Presidente del Consiglio e titolare ad interim del Dicastero delle Finanze, per gravissimo danno agli interessi nazionali, per avere disposto il pagamento alla Morgan Stanley di questi 3 miliardi di Euro, a definizione e chiusura di perdite sui derivati risalenti al 1994. C'è una parentesi che nel 1994, quando Morgan Stanley stipulò il contratto con i derivati del Ministero del Tesoro, alla direzione del Ministero guarda caso c'era Mario Draghi, ma non basta, l'onorevole Fiore rende noto che Giovanni Monti, figlio del capo del governo, quindi Giovanni Monti figlio di Mario Monti, era Vice Presidente della Morgan Stanley e conclude con queste precise parole che io ripeto esattamente. Quindi il padre ha pagato il figlio a danno degli interessi nazionali. Secondo l'onorevole Fiore, lo Stato italiano invece di pagare avrebbe dovuto contestare il contratto, evidenziando la condotta prevaricatrice illegittima della banca, riconducibile a un chiaro abuso di diritto e a forme di conclamata usura e quindi Monti doveva rifiutarsi di pagare esercitando il diritto di difesa, peraltro legittima. A questo proposito dobbiamo ricordare che chi ha contestato questi pagamenti, ad esempio il Comune di Milano, recentemente ha ricevuto un contributo di 450 milioni di risarcimento per perdite sui derivati. Quindi l'esposto sottolinea infine che due settimane prima della richiesta di JP Morgan, la società di reti Standard & Poor's avrebbe forzato negativamente il giudizio sull'economia italiana, con dichiarazioni che hanno aperto la strada alla richiesta della banca e ricordando anche che il Presidente Monti è stato lui stesso nel libro paga di Standard & Poor's, e quindi ne chiede formalmente la punizione penale. Io direi che non è corretto esprimere dei giudizi drastici dopo aver sentito una sola campana e noi abbiamo sentito solo la campana di questo esposto, certo che però le campane dei giornalisti, dei media e anche degli uomini politici. Non hanno suonato in questa occasione. Perché non hanno mai suonato? Io comunque non voglio esprimere giudizi e infatti ho proprio letto cose che non faccio, degli elementi per evitare di dire qualcosa di sbagliato Giancarlo. Sì, torniamo a una questione che sembra meno importante, sembra quasi teorica, ma è la questione. Se c'è questa logica, se c'è questa mentalità che supporta anche la mentalità dei finanzieri, perché non è questione di un gruppo ristretto di uomini, ma si potrebbe dire che è il modo di pensare dell'occidente, perché al di là degli errori tecnici, che siano falsificazioni, che siano creazioni fantastiche di titoli che non hanno nessun valore, c'è un modus operandi che è quello del banchiere, che è quello del politico, che è quello dell'imprenditore, che è quello dell'intellettuale, sembra quasi una veste comune. Allora, questa logica che va al collasso, questa logica del collasso rispetto alla questione finanziaria, possiamo dire qualcosa di più? Io faccio solo un accenno, crisi, crisi, crisis è l'altro nome del giudizio e l'ideologia della crisi, che viene sventolata a grandi bandiere in tutto l'occidente per digerire questa cura dimagrante che in effetti è ingrassante dei gruppi bancari, dei gruppi finanziari, è senza giudizio, cioè paradossalmente questa crisi è senza crisi, è proprio senza giudizio. Il giudizio però non è degli umani, è quello che voglio dire, noi non stiamo noi giudicando l'operato, nemmeno io faccio questa operazione, non giudico questo operato di monti come dei gruppi bancari, in ciascun caso il giudizio è del tempo, non lo danno gli uomini, non l'hanno gli uomini, non l'hanno i giornalisti o per esempio anche il politico che ha fatto questo, allora mi chiedo se la crisi è il giudizio, qual è il modo del proseguimento oggi? Molto abbaldando l'ideologia della crisi ci digeriamo tutta questa cura dimagrante che sta facendo fallire persone, che provoca suicidi, io lo vedo, sono oggi di riposo, qui nella mia piccola vallata non passano auto, non vanno a Cavalese, gli alberghi sono solo alla metà, si avverte questo tessuto, ma questo tessuto è fatto per un'operazione dimagrante, per un'applicazione del terzo escluso che sta in questa logica collassante, possiamo promuoverla, qual è la logica che non è collassante? Se la logica sulla quale poggia l'Occidente e persino la creazione dell'Euro e come la vita dei finanzieri ti porta a non sapere quale sia il destino, quella volta che ci sono degli elementi attorno alla vita, qual è la… Senti scusami se ti fermo un momento, perché il problema bisogna vederlo da un altro punto di vista, in questo momento ci sono molti che dicono ma guarda un po' le banche hanno bisogno di soldi e allora sono le banche che guadagnano, però le banche perdono, non si capisce bene, le banche stanno guadagnando cifre enormi, ma allora com'è che sono tutti in crisi e rischiano di saltare? Il governo americano ha tirato fuori miliardi di dollari, decine, migliaia di miliardi di dollari anche la BCE, perché? Perché bisogna capire una cosa, chi sta guadagnando è un ristretto gruppo di grandissimi finanzieri che sono i responsabili della crisi del 1907, della grande depressione del 1929 e del collasso di oggi e hanno sempre guadagnato durante tutti questi periodi, in alcuni momenti si sono messi un po' da parte, infatti dal 1933 fino al 1999 hanno lavorato ad agio, poi sono ripartiti in forza del 99 e prima, dopo il 1907 fino al 25 sono stati tranquilli, perché? Sono un piccolissimo gruppo e possiamo dire benissimo le banche implicate, ti ho detto prima, sono quelle controllate da queste grandi famiglie di etnie, di grandi finanzieri di enorme intelligenza, i quali fanno come i direttori d'orchestra e hanno allevato un gruppo di pifferai magici che fanno lo stesso lavoro dei pifferai magici, solo che invece di abbagliare la gente e di incantarla con la musica, li incantano con il miraggio del profitto. E allora cosa succede? Che questi pifferai magici, che poi sono tutte le altre banche, vanno in giro a cercare, a vendere, a produrre, a convincere la gente a speculare, non sapendo che però, a differenza dei pifferai magici e della favola di Grimm, anche loro finiranno nello stagno e nelle acque profonde, lasciando i loro soldi, gli unici che guadagnano sono quelli che emettono i titoli tossici e le altre porcherie, ad esempio per sapere chi sono è facilissimo, perché sono un gruppo di 4-5 grandi banchieri e sono 9 le banche, 8 le banche che emettono il 96% dei derivati, che rappresentano il 10% del PIL, 10 volte il PIL mondiale e non è difficile, solo che noi diciamo e facciamo tutto un cumulo dei banchieri, i banchieri ad esempio italiani subiscono dei danni tremendi perché hanno preso i freddi di italiano e in braghe di tela, non parliamo, ha bisogno di essere aiutato del Monte Paschi di Siena, le grandi banche italiane, ma perché? Ma perché hanno seguito le istruzioni, credendo, lasciandosi abbagliare perché per un po' di tempo hanno guadagnato, quando vendevano i derivati guadagnando il 4% e più riuscivano a dare grandi provvigioni a chi li vendeva e a chi li comprava corrompendoli e allora in quel periodo guadagnavano, ma quando poi c'è stato il re di razione, sono le banche, ma sono i direttori d'orchestra, non sono le grandi banche, sono le grandissime banche, questa piccola lobby di banche che ha truffato il mondo e che adesso sta per essere messa sotto accusa negli Stati Uniti, per fortuna che se ne sono accorti, è questione di pochi giorni, io queste cose le ho dette nel mio sito Finanza Facile mesi fa, adesso sta uscendo questa notizia e tu vedrai Giancarlo che nel giro di prima di settembre verrà fuori la notizia che c'è un gruppo ristretto di criminali, criminali finanziari che hanno distrutto l'economia e che stanno comprando tutto quello che c'è in Europa, hanno comprato la Fiat, stanno comprando la Peugeot, hanno comprato le ditte di modi italiane e stanno comprando tutto, quindi questa è la realtà dei fatti. E quindi abbiamo ancora qualche minuto e quindi come rilanciare quella questione che quantomeno aveva tenuto a freno nel 1933 con la legge di Roosevelt, cioè come rilanciare la regolamentazione delle pratiche finanziarie oggi? Tutte le principali istituzioni finanziarie sono in mano di persone che lavorano per queste banche, tutte, dal Presidente della Fed che si chiama Bernache, Bernache si chiama Shalom di nome anche se non lo dice ed è un amico intimo di JP Morgan e di Rockefeller e segue le disposizioni di questi signori, ma non è solo lui, il Fondo Monetario Internazionale, la Trilateral, tutte le associazioni che ci sono, alla BCE chi è che c'è? Mario Draghi che ha vissuto in America ed è stato Vice President della Goldman Sachs, era responsabile per l'Europa di questo settore ed era uno, anche lui, non so neanche quanto, può darsi anche lui, perché poi quando la gente ti tratta bene, danno degli stipendi eccezionali, guarda tu hai sentito adesso che c'è stato quello scandalo della Berkley's Bank, hanno mandato via la responsabile del settore derivati che si chiama Ida Drew, l'hanno mandata via settimana scorsa, le hanno dato 24 milioni e mezzo di liquidazione, dopo che hanno detto che aveva distrutto, che aveva fatto dei danni, ma non è vero niente, ma se ne fregano di dare 24 milioni, perché hanno già guadagnato 5 milioni nel primo trimestre, la Goldman Sachs, il primo trimestre degli utili superiori ai 5 miliardi di dollari, cosa vuoi che sia dare qualche decina di miliardi o di milioni a questi operatori finanziari grandi e più sono intelligenti, più vengono catturati, perché loro prendono solo le menti più acute, insomma problema grosso. Come rilanciare la questione della regolamentazione, come rilanciare questa questione semplice, perché questa è la questione, non dell'attacco a un gruppo ristretto, perché l'attacco a un gruppo ristretto comporterà un altro gruppo ristretto, non c'è uscita dalla logica del collasso, l'uscita è etica per dire così, quindi qual è l'etica della regolamentazione? Io non ho della grande simpatia per Gerillo, Gerillo ha detto che bisognerebbe fare una nuova Norimberga, non fatta con quei criteri, però certamente la funzione ci sarà di sicuro, perché stanno scoprendo in America, quando dicono che l'1% e loro sono in 90% e vengono sfruttati, hanno ragione, questi ragazzi vedono giusto, proprio perché non sono economisti e hanno capito qual è il meccanismo, quindi dobbiamo dare più ascolto ai ragazzi. Ieri ad esempio un israeliano, perché non è che sono tutti, un israeliano, fra l'altro figlio di un internato nei campi di Buchenwald, si è dato fuoco a Tel Aviv e i giornali italiani non ne hanno parlato, io sono riuscito a vedere la notizia, si è dato fuoco perché ha dovuto pagare delle tasse e poi si è ammalato di cuore, non poteva più pagare, l'hanno sfrattato, lui era uno che andava in piazza con gli indignados che vanno spesso in piazza, ma non ce li fanno vedere anche in Israele, perché anche in Israele ci sono degli ebrei trascurati, non certo gli estinasiti quelli che sono ortodossi, ma gli altri vengono anche loro trattati male e ieri se ne è bruciato uno in piazza e credo che questo sarà un altro segnale che lascerà il segno. Va bene, Guido dobbiamo concludere qui e penso che abbiamo anche, come dicono, forato il tempo e ti invito ad altre conversazioni su questi temi che, insomma, questa altra lettura si trova a rarissime volte, io ti ringrazio e lascio a te la parola per i saluti, grazie ancora Guido. Grazie a te dottor Calciolari che hai la sensibilità di approfondire e dare spazio a delle opinioni che sono senza dubbio fuori dal luogo comune, ecco questa è la cosa principale, riuscire a uscire dal luogo comune. Grazie e arrivederci. Arrivederci.